Come al solito io ringrazio chi mi corregge perché ho già messo in linea questo commento dell'articolo 3 e 4, però stranamente l'audio non c'era. Purtroppo io non sono molto esperto nelle tecniche informatiche e perciò a volte può capitare anche qualche pasticcio. Segnalatemelo, per me è solamente un piacere e vi ringrazio. Dunque ricomincio quindi da capo, ho dovuto ritirare quel video senza sonoro. L'articolo 3 dice così, Come al solito ciò che è tra parentesi quadra in rosso è una mia aggiunta perché non è chiaro a volte il pensiero e allora bisogna necessariamente chiarirlo, ma sostanzialmente questo dubbio sostiene che si possa predicare di Dio solo in metafora. E allora bisogna capirci che cosa dobbiamo intendere per metafora. Sul mio sito ci sono tutte le figure retoriche, c'è anche il cartaceo che può essere scaricato gratuitamente. La metafora è una figura retorica, l'abbiamo vista meno mille volte nel commento della Divina Commedia, nel commento delle varie poesie. La metafora sostanzialmente è la similitudine, la metafora è una similitudine senza come. Perciò è come se io rivolgendomi a Mario gli dicessi sei un orso. Sei un orso perché sei sempre isolato, vuoi vivere da solo, hai un carattere scontroso. Evidentemente che Mario non è un orso, ma si fa riferimento a qualche cosa d'altro. Mario è un ente, un essere umano che non può essere identificato con l'essere animale orso, quindi vedete che la parola orso rimanda a qualche cos'altro, è una metafora. Se invece si aggiungesse a questo vocabolo anche il come, Mario ti comporti come un orso, ecco allora abbiamo la figura retorica della similitudine, ma sostanzialmente se non è un zuppo e pan bagnato, ecco. Ora c'è chi potrebbe sostenere, certamente al tempo di Tommaso d'Aquino, c'era chi lo sosteneva, perché se c'è questa argomentazione riportata da Tommaso e una risposta a questa argomentazione, vuol dire che qualcuno riteneva che i nomi predicati di Dio fossero delle semplici metafore. Capite che se sono delle semplici metafore dicono poco sull'essenza di Dio, no? Allora, perché rimandano ad altro? È evidente che Tommaso non è d'accordo. Prima argomentazione, tutti i nomi che diamo a Dio sono presi dalle creature, come si è detto, siamo nella prospettiva aristotelica tomista, la tabula rasa, la conoscenza non arriva attraverso una contemplazione di un iperuraneo, ma ci arriva dall'esperienza dei singoli oggetti. Quindi non possiamo arrivare a Dio direttamente, dobbiamo passare attraverso i suoi effetti, quindi le sue creature. Ora, i nomi delle creature si dicono di Dio in senso metaforico, come quando si dice che Dio è pietra. Beh, qui è un esempio un po' limite, perché è evidente che pietra è materia, e le materia nella sua totale potenzialità, e Dio non è materia. Quindi predicare di Dio il vocabolo pietra è chiaro che siamo fuori strada, e infatti Tommaso chiarisce subito. La parola pietra significa un essere che esiste solo nella materia, e tali nomi non si possono attribuire a Dio. pietra, come se dicessi, chiaro che non posso usare la parola pietra, ma se dicessi, Dio Gesù ha il cuore d'oro. È evidente che il vocabolo oro, in questo caso, viene predicato metaforicamente. Ma per altri nomi non è così. Altri nomi, invece, significano le stesse perfezioni, però in modo assoluto, come ente, buono, vivente. E questi si dicono di Dio in senso proprio. Quindi è vero, ci possono essere dei vocaboli predicati di Dio metaforicamente, ma ce ne sono altri che sono predicati in senso proprio, perché Dio è l'ente per eccellenza, è l'essere la cui essenza implica l'esistenza. Quindi tutti gli altri enti, per fermarci al vocabolo ente, partecipano di questo essere, ma l'essere, il senso proprio, assoluto, è proprio quello di Dio. Quindi queste predicazioni non sono metaforiche. Dipende da quali vocaboli noi utilizziamo. Seconda argomentazione. Ora tutti questi nomi, buono, sapiente e simili, con più verità vanno negati piuttosto che affermati di Dio è vero, ne abbiamo già parlato, esiste la teologia negativa che sostiene proprio che di Dio non si può dire nulla, ma solamente si può dire quello che Dio non è. Dio non è corruzione, Dio non è limitato dal tempo, Dio non è ignoranza, Dio eccetera, eccetera. Una teologia che non è condivisa da Tommaso. Andiamo alla seconda argomentazione, alla risposta di Onigi. Dice che tali nomi si debbano negare a Dio. Attenzione, eh? Anche qui bisogna intendersi su che cosa noi ci stiamo confrontando. perché è la posizione di Dionigi, sono delle parole tratte dal pensiero teologico di Dionigi. Ma con questo Dionigi, in riferimento a tutto quello che ha scritto, siamo sempre lì, non possiamo isolare due frasi, in riferimento a tutto quello che ha scritto Dionigi, dove Dionigi ci parla dell'essere divino e quindi non si limita semplicemente a una teologia negativa. se noi ci limitiamo a una riflessione puramente epidermica, diciamo già subito, ma Dionigi si contraddice che stupidaggini sta sostenendo. Prima dice una cosa, poi dice un'altra, no? Dobbiamo vedere in che prospettiva vengono sostenute queste parole e questo pensiero. Dionigi dice che tali nomi, li abbiamo detto quali sono, si devono negare a Dio precisamente per questa ragione. Perché ciò che è espresso nel nome non compete a Dio nel modo col quale il nome lo significa, ma in una maniera sublime. È evidente che nel momento in cui io predico di Dio la bontà, perché io ho conosciuto la bontà attraverso una mia esperienza di uomini e di donne buone, il modo con cui avviene questa predicazione è evidentemente insufficiente, ma è più che sufficiente per dire Dio è buono, non certamente alla maniera di Mario, Giacomo, Filippo, Andrea, ma in modo sublime. I nomi dei corpi non si predicano di Dio se non metaforicamente e su questo è d'accordo anche Tommaso. Abbiamo visto l'esempio della pietra, essendo egli incorporeo. Però giustamente chi fa questa obbiazione dice ma tutti gli enti che noi conosciamo in questo mondo hanno la caratteristica della corporeità, quindi tutti questi nomi si predicano di Dio metaforicamente. Vediamo la risposta. Questi nomi importano condizioni corporali non nello stesso significato del nome. Allora, se io dico, l'uomo, Mario, Andrea, Filippo, sono enti razionali. È vero che Mario, Filippo e Andrea hanno un corpo, vivono in una condizione di materialità e condizionati dal tempo e dallo spazio, ma nel momento in cui io definisco, li definisco, razionali, buoni, intelligenti, queste definizioni esulano dalla corporeità e quindi si possono benissimo predicare di Dio. Vediamo. Ma quanto al modo di significare? Quelli invece che si applicano a Dio in senso metaforicano implicano materialità, condizione cooperare nello stesso loro significato. perché sostanzialmente, quindi, metaforico, la pietra va bene, perché la pietra non si può concepire se non in modo materiale, ma nel momento stesso in cui un ente, un individuo, ha pure un'altra valenza, ecco allora che senza alcun dubbio quella valenza, naturalmente in un grado sublime, può essere predicata di Dio. Dunque, 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 set contra, Sant'Ambrogio è sulla linea di Tommaso. Ci sono dei nomi che ci mostrano all'evidenza le proprietà della divinità. Queste sono le parole di Ambrogio. Altri che esprimono la chiara verità della maestra divina, altri poi che si dicono di Dio in senso traslato per similitudine. Quando diciamo similitudine vale per metafora. È la stessa cosa. Abbiamo detto qual è la differenza, ma la sostanza è la stessa. Vediamo chiarimento ultimo di Tommaso. Nei nomi, dunque, che attribuiamo a Dio, ci sono da considerare due cose, cioè le perfezioni stesse significate, bontà, intelligenza, vita, sapienza, conoscenza, e il modo di significarle. Riguardo, dunque, a ciò che tali nomi significano, convengono a Dio in senso proprio. Perché Dio è vita. D'altra parte, abbiamo il sostegno della rivelazione. Io sono la vita, io sono la luce che illumina il mondo. Quindi, nella stessa rivelazione, c'è un riferimento e un uso specifico di termini che noi conosciamo attraverso la nostra esperienza quotidiana. E anzi, più proprio che alle stesse creature. Perché si dicono di Lui primariamente. Un conto di Eremario è buono. E una bontà, per quanto santa possa essere, pur sempre limitata. Ma se noi predichiamo la bontà di Dio, questa è predicata in modo eminente, primario. anche perché è la causa della bontà di Mario. E la bontà di Mario partecipa della bontà divina. Quanto invece ha il modo di significarle, non si dicono di Dio in senso proprio. Perché hanno un modo di significarle che conviene alle creature. E' evidente che nel momento in cui io faccio riferimento a Mario o Andrea valutando la loro bontà, il loro cuore, gentile e dolce, è evidente che quella significazione che si concretizza in un individuo non è quella che conviene a Dio. E passiamo all'articolo 4. Videtur, sembra che i diversi nomi che si danno a Dio siano dei sinonimi. Cioè siano legati per sinonimia. Cos'è il sinonimo? Tante volte quando scriviamo in Word schiacciando il tasto destro su un determinato vocabolo ci viene fuori sinonimi, cioè vocaboli, che hanno lo stesso significato o si avvicinano dal significato al vocabolo in questione. Quindi i sinonimi, due sinonimi, vuol dire due sostantivi o due aggettivi che hanno lo stesso significato. Perché? I nomi che si dicono di Dio indicano in tutto la medesima cosa in Dio. Perché? La bontà di Dio è la sua essenza come anche la sapienza. In altri momenti, non ripeto questo pensiero mille volte perché se no non finiamo più, io avevo proposto l'esempio di Cusano che attraverso la geometria cerca di farci intuire come in Dio, come nell'infinito, tutto trova l'unità. mentre noi viviamo nella molteplicità. Quindi ha significato parlare di Dio e attribuire a Dio la qualità della bontà e distinguerla dalla qualità della sapienza. Bontà e sapienza si identificano. Quante volte io ho insistito su questa contrapposizione che è presente tra i cristiani e poi tra i cattolici non parliamone. I cattolici si dicono uniti ma è da qualche anno che si fanno almeno i cattolici impegnati guerra uno con l'altro in queste contrapposizioni assurde. Dove c'è chi mette in evidenza la giustizia di Dio, un Dio giusto, severo, che giudica e chi invece mette in evidenza la misericordia. Dio perdona a tutti puoi fare quello che vuoi Dio perdona. Ecco invece che noi dovremmo sempre tener conto che Dio rappresenta rivela una giustizia misericordiosa oppure una misericordia giusta. Non c'è contrapposizione in Dio. Ma allora a questo punto che senso ha predicare di Dio la misericordia o la giustizia? Sono la stessa cosa. E questa è la prima argomentazione. Vediamo a cosa risponde Tommaso. Si chiamano sinonimi i nomi che significano una sola cosa secondo un unico concetto. Ma quelli che esprimono nozioni diverse di una identica realtà non significano primariamente direttamente una medesima cosa. E allora che senso ha la riflessione di prima? La riflessione di prima ci vuol dire d'accordo in Dio tutto trova una profonda unità. ma noi siamo ma noi siamo uomini noi conosciamo attraverso il nostro intelletto che percepisce la molteplicità. Noi non stiamo contemplando direttamente Dio noi lo conosciamo attraverso la rivelazione da una parte e la ragione e quindi l'esperienza sensibile dall'altra e la nostra esperienza sensibile percepisce nella buntà e nella sapienza due qualità differenti. Argomento 2 Se dunque questi concetti sono molti e la realtà è una pare che tali concetti siano vani. No abbiamo già dato una risposta. Ora Dio è uno al massimo grado dunque pare che non sia uno realmente e molteplice concettualmente. Questa invece è una contestazione un pochettino più sottile che mette in evidenza una caratteristica di Dio che abbiamo dimostrato negli articoli precedenti. Dio è uno. ma e allora come possiamo concettualmente concepirlo in modo molteplice? Non c'è una contraddizione in tutto questo? No non c'è una contraddizione. Egli è uno realmente e molteplice secondo i concetti che ne abbiamo perché perché il nostro intelletto lo apprende in molteplici modi come in molteplici modi le cose lo rappresentano. E quello che ho detto prima la sostanza è questa e dovremmo sempre porci in questa prospettiva no? perché noi pretendiamo troppo spesso di mettere Dio al nostro livello oppure metterci noi al livello di Dio e non è così che ci piaccia o no che all'uomo moderno piaccia o no specialmente per quanto riguarda la riflessione di carattere morale no? E oggi prima domenica di quaresima ci ricorda questa verità voi conoscerete che cos'è il bene che cos'è il male perciò siete voi la misura di tutto e d'altra parte ci furono dei sofisti che ebbero il coraggio di affermare però almeno loro non avevano la rivelazione cristiana l'uomo è la misura di tutto delle cose che sono in quanto sono di quelle che non sono in quanto non sono attenzione però che questa è una grande bugia una grande menzogna che ci permette poi nella tipica morale utilitaristica di girare la frittata come pare a noi secondo i nostri comodi di fare ciò è quel che ci piace non quel che si deve fare anche da un punto di vista morale semplicemente naturale no? non c'è bisogno di andare a cercare una rivelazione rivelazione completa perfezione ma certe regole ce le abbiamo scolpite nel cuore ecco perciò che noi non possiamo pretendere di valutare questi argomenti dalla prospettiva di Dio perché la prospettiva di Dio non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo quindi predicare di Dio dei concetti anche se sappiamo che questi concetti in Dio trovano una perfetta unità perché Dio ha come attributo specifico l'unità non è un errore anzi è un modo per comprendere da bambini Paolo appunto l'abbiamo visto tante volte ci dice quando eravamo bambini ragionavamo parlavamo da bambini quando siamo adulti vediamo le cose in un'altra prospettiva dunque qui per dare forze alla propria tesi Tommaso riporta delle parole di Geremia che rivolgendosi a Yahweh lo definisce così o fortissimo o grande o potente o signore degli eserciti vedete che se tutti questi vocaboli fossero dei sinonimi beh Geremia avrebbe potuto semplicemente dire o fortissimo o bon finito col fortissimo o Yahweh basta in quella parola è concentrato tutto invece Geremia vede il Dio il suo Dio Yahweh secondo le varie prospettive sotto le quali può l'uomo cogliere una determinata realtà è bello a questo proposito il pensiero di Leibniz della monade che vede un paesaggio in prospettive sotto prospettive differenti se noi ci mettiamo dall'alto di un monte e guardiamo sotto nella valle dove c'è un lago Pierino si mette in una posizione a nord Giacomo si trova a sud e pippo a est vede prospettive differenti come sono le nostre prospettive umane e da queste prospettive molto spesso si coglie solamente qualche cosa non si riesce a cogliere tutto e la prospettiva umana è proprio questa non si riesce a cogliere Dio per quello che è effettivamente non si contempla ancora Dio nella sua essenza quindi cerchiamo per quel che possiamo conoscere attraverso i suoi effetti e le sue creature di giungere a lui un passo per volta infatti la risposta è poi a questa ora il nostro intelletto siccome conosce Dio per mezzo delle creature per conoscere Dio forma dei concetti proporzionali alle perfezioni derivanti da Dio delle creature le quali perfezioni in Dio preesistono allo stato di unità e semplicità ma nelle creature sono ricevute divise e molteplici e quindi noi non possiamo accostarci a Dio se non in questa specifica prospettiva